Ogni volta che Elon Musk dice qualcosa, o meglio che muove le sue magiche ditine sulla testiera, scoppia un pandemonio. Ma che cosa è successo in questo caso e perché ci riguarda così direttamente? Qualche giorno fa stavo gironzolando sul social network più noioso del pianeta, che risponde al nome di X, oppure di Twitter se lo vogliamo chiamare alla vecchia maniera, e mi sono imbattuto in un post proprio di Elon Musk, che si lamentava nella fattispecie del fatto che si era comprato un nuovo computer, ma che per poterlo utilizzare gli era richiesto di creare un account Microsoft, cosa che lo indisponeva oltremodo perché sapeva bene che nel momento in cui avesse creato un account Microsoft, una porzione dei suoi dati personali sarebbero stati dati in pasto a Copilot, cosa che lui voleva assolutamente evitare. E allora anziché fare come qualsiasi persona normale che solleva il telefono e apre un ticket con l'assistenza di Microsoft lui ha sì sollevato il telefono, ma ha chiamato direttamente Satya Nadella, che se non lo sai è il CEO, ovvero il capoccia di tutta quanta la Microsoft. Ebbene, da questa conversazione tra i due si è aperto un vero e proprio vaso di Pandora che ci tocca tutti quanti molto ma molto da vicino. Andiamo a vedere perché e soprattutto come evitare guai in futuro. Ti senti pronto? Iniziamo. Proprio qualche giorno fa Elon Musk scriveva sul suo account Twitter quanto segue, ovvero ho appena comprato un nuovo pc e non mi lasciano utilizzarlo a meno che io non crei un account Microsoft, che significherebbe anche dare alla loro intelligenza artificiale l'accesso al mio computer. E questa cosa non va bene. Di solito c'era un'opzione per evitare di creare l'account Microsoft, ma non la trovo più. Capita anche a te? Naturalmente, oltre che ai miei occhi, la cosa non è passata inosservata nemmeno agli occhi delle testate di settore, che hanno riportato per intero il messaggio che Elon Musk ha inviato a Satya Nadella. Egli ha scritto, infatti, Satya non voglio essere uno scocciatore, ma per favore consenti alle persone che configurano un nuovo pc Windows di saltare la creazione di un account Microsoft. Questa opzione scompare se il computer è connesso ad una rete Wi-Fi. Questo non è esatto perché nel caso in cui tu anche non sia connesso, ti viene richiesto di connetterti e creare un account Microsoft con le ultime versioni di Windows. Inoltre, continua Musk, anche se vuoi iscriverti, non ti consentirà di utilizzare un indirizzo email di lavoro e io ho solo indirizzi email di lavoro. Inoltre, precisa la rivista Il Software, che è una rivista molto tecnica, naturalmente ci sono dei modi per saltare la creazione dell'account Microsoft in fase di installazione di Windows, ma richiedono un pochino di perizia tecnica e consistono, come abbiamo già visto tante volte, nell'utilizzare il software Rufus oppure di utilizzare il comando OOBE, ovvero Out of Box Experience. Ma perché dovremmo saltare la creazione di un account Microsoft? Ebbene, come ci informa proprio la stessa rivista Il Software, Copilot non è ancora disponibile per l'Europa in generale e per l'Italia in particolare, ma lo sarà a breve, con i nuovi aggiornamenti di Windows ed in particolare con la famosa o famigerata versione 24H2 di cui abbiamo parlato tanto in alcuni video precedenti. Tuttavia, alcune riviste di settore ancor più specializzate, come questa che stiamo guardando, che si chiama Concentric.ai, ci informano del fatto che, in teoria, Copilot è un sogno che si realizza. Ma ci sono alcuni problemi di sicurezza che vanno evidenziati. Mentre Microsoft fa del suo meglio per tenere al massimo la sicurezza dei suoi prodotti, i team della sicurezza dei dati devono sapere questo. Cioè che Copilot essenzialmente ha quelle che vengono definite dalla rivista stessa in maniera molto precisa le chiavi del regno. Può accedere a tutti quanti i dati sensibili a cui puoi accedere tu e ad alcuni di questi, ad essere onesti, non avrebbe neanche bisogno di accedere. Ma nel momento in cui noi forniamo l'accesso per mezzo dell'account Microsoft a Copilot, gli diamo, come dice questo stesso articolo, le cosiddette chiavi del regno. Ovvero lui da quel momento in poi potrà ficcanasare su qualsiasi dato personale all'interno del nostro computer. Ma chi ci dice che Copilot a sua volta non sia vulnerabile e che non possa essere utilizzato come una vera e propria backdoor per l'accesso ai nostri segreti? Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. E allora andiamo a vedere come fare ad evitare di utilizzare il Microsoft account sia nel caso in cui tu debba installare Windows sia nel caso in cui sia stato già installato sul tuo PC e tu voglia passare da account Microsoft ad un account locale. Quando nel corso dell'installazione arrivi a questo punto e ti viene richiesto di effettuare l'accesso, la cosa che dovrai fare a livello canonico, ma poi ti farò vedere un trucco che secondo me è anche migliore, è premere la combinazione di tasti Shift e F10 e fare comparire, come stai vedendo, una finestra di DOS. All'interno della finestra di MS-DOS dovrai digitare questo comando oobe slash bypass nro. Premi invio e vedrai che automaticamente il tuo computer si riavvierà. Ricordati nel frattempo di staccare il cavo di rete nel caso in cui la tua connessione sia accablata e vedrai che al riavvio, dopo aver risposto ad alcune domande a cui avevi già risposto in precedenza, ti verrà richiesto di inserire il tuo nome. Fatto questo potrai tranquillamente procedere utilizzando un account locale. Esiste tuttavia anche un altro metodo che non conosce quasi nessuno, molto più semplice e più veloce per evitare di dover inserire l'account Microsoft. E allora te lo faccio subito vedere anche a beneficio di Elon Musk nel caso in cui dovesse passare sul nostro canale e non sapesse come sistemare il suo computer. Tutto quello che devi fare è inserire questa e-mail, ovvero noemail at yahoo.com. fatto questo clicca sul pulsante avanti e digita qualsiasi password ti venga in mente. Io digiterò prova1234. Clicca su accedi e vedrai che ti verrà fuori che si è verificato un errore. Esattamente come sta capitando a me. Clicca ancora su avanti e come vedi potrai inserire un account locale in maniera molto semplice. Ecco fatto. Ma come fare nel caso invece in cui tu abbia già un account Microsoft impostato sul tuo pc e voglia trasformarlo in un account locale? Vediamolo insieme. Eccomi qui su una macchina che dispone di un account Microsoft che io per i motivi che abbiamo appena detto voglio invece trasformare in un account locale. Per farlo tutto ciò che devo fare è portarmi qui in basso sul tasto start di Windows. Una volta aperto il tasto start mi porterò su impostazioni e nelle impostazioni sceglierò la voce account. All'interno di account scenderò qui sulla voce le tue info e fatto questo troverò una voce che si chiama accedi con un account locale. Facciamoci clic su e vediamo che ci si aprono i dati relativi al nostro account Microsoft. Cliccando sulla voce successivo potremo digitare il PIN oppure la password che utilizziamo con questo account e nella finestra successiva ci basterà scegliere un nome utente e se lo vorremmo anche una password per trasformare il nostro account Microsoft in account locale. Una volta che avremo compilato tutti i campi che vorremmo compilare io lascio solo il nome utente clicchiamo su successivo e quindi su disconnetti e chiudi. Ed ecco qui che il nostro account è diventato un semplicissimo account locale. Nella speranza di essere stati utili con questo video anche al nostro nuovo amico Elon Musk ti dico che a livello personale io ho sempre e solo utilizzato account locali sia per una questione di privacy che di comodità perché li trovo infinitamente più semplici da utilizzare. Ma veniamo subitissimo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono per Matteo Crispino, Fabrizio Sala, Giuseppe Mirisciotti, Michele Ferroni, Antonio Marino ed anche per udite udite Gioacchino Ponziani che si è abbonato invece in qualità di distinto gentiluomo per cui mi tolgo il cappello di fronte a te mio caro Gioacchino. Ma come di consueto ci sono non uno ma ben due ringraziamenti in più da fare quest'oggi ed il primo è per Mike Leone in arte Giorgio Brusasco e lui sa perché ed il secondo invece è destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!